Cade la terra, periferia di Pavia, inaugurazione del centro sociosportivo Dario Zella. Siamo qui per un torneo di calcio molto particolare perché segna anche l'esordio agonistico della squadra dei rifugiati che è stata cacciata da Mortara e oggi ha trovato casa a Parona con i ragazzi che cominciano a giocare a calcio e che sperano di iscriversi a un campionato amatoriale. Stiamo parlando di integrazione, qui l'integrazione raggiunge i massimi livelli perché questo centro sportivo ospita i ragazzi seguiti dalla fondazione Giuseppe Costantini che da 31 anni si prende cura degli strati sociali più deboli di persone che hanno disabilità psichiche e anche questi sono qui a giocare a calcio tutti insieme. Grazie a tutti! Grazie a tutti!